Siamo a Basovizza, Trieste, abbiamo le novità delle biciclette che noi vendiamo, le Shockblaze. Abbiamo presentato la nuova linea 2012 con le biciclette 29, che travede come il futuro nel settore della mountain bike, soprattutto nel cross country e nel Gran Fondo, dove la bicicletta richiede sempre di più alte velocità, una guida più comoda e più confortevole. Siamo a Basovizza, Trieste, abbiamo le novità delle biciclette, Siamo a Basovizza, Siamo a Basovizza, come un' abitamento, un' abitamento, e il grande volante è molto utile, il 209 è stato per il più alto volante, e, in questo modo, il questo modo è stato molto a vedere, Grazie a tutti